segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te lo dobbiamo salutare e volevo un'altra domanda per lei perché si è parlato della tentazione atomica il rischio quando quando si insomma che poi alla fine qualcosa sfugga di mano che una russia in difficoltà possa utilizzare questo strumento lei crede che sia un rischio concreto dobbiamo partire da un ragionamento quando noi parliamo di relazioni internazionali e quando noi parliamo di armi nucleari noi parliamo di interlocutori razionali la russia che erede dell'unione sovietica quando si parla di armi nucleari è sempre stato un interlocutore perfettamente razionale grazie alla razionalità degli stati uniti e dell'unione sovietica se quello che è stato l'equilibrio nucleare l'equilibrio rispettivo reciproco del terrore come si chiamava allora ha in qualche modo mantenuto la pace ancorché con degli scontri locali alle periferie per tutta la durata della guerra fredda e questo equilibrio nucleare della guerra fredda era basato sulla reciproca consapevolezza che uno scontro nucleare avrebbe condotto alla fine ultima del genere umano di questo erano tutti consapevoli gli americani e i sovietici questo tipo di razionalità a mio modesto avviso è rimasto e permane anche in quella che chiamiamo la seconda era nucleare che è caratterizzata da forme evidentemente di proliferazione da parte di attori secondari chiamiamoli così ma che continua a vedere le grandi potenze i cosiddetti p5 come i detentori in ultima analisi del grimaldello atomico nel caso specifico e venendo a bomba essendo putine un interlocutore perfettamente razionale e qui sgombriamo una volta per tutte le voci delle malattie della follia del fatto il parkinson che se lo sta portando via eccetera sono tutte sciocchezze l'uomo è perfettamente razionale e perfettamente compulsui come dicono i medici su questo non c'è il minimo dubbio è altrettanto compulsui è la sua il suo cosiddetto cerchio magico quindi quel gruppo di interesse che in questo momento governa la russia e non è assolutamente nel loro interesse utilizzare le armi nucleari per il semplice motivo che l'arma nucleare è quel grimaldello che si sa dove si comincia e non si sa dove si va a finire e siccome il loro interesse evidentemente è quello da un lato di mantenere potere e dall'altro di assicurare il successo della russia nel medio lungo termine evidente che l'arma nucleare non rappresenta un'opzione il discorso è diverso il discorso è che a qualcun altro può convenire che la russia commetta un'immensa sciocchezza del genere questo è il punto fondamentale ma io non credo che i russi scientemente arriveranno mai a una cosa del genere a chi potrebbe convenire a chi potrebbe convenire non ne ho la più pallida idea però qualcuno continua qualcuno continua ad evocare questo spettro del nucleare per far sì che l'occidente in qualche modo intervenga in modo più concreto ah stanno per tirare la bomba dunque dobbiamo dovete intervenire è fin troppo evidente insomma quindi dice l'allarme perché viene evocata più dagli ucraini questo in questo come strumento è uno strumento allora la leggiamo come uno strumento secondo lei come uno strumento di pressione sull'occidente per avere più armi oggi e quindi per mantenere in realtà comunque la guerra nel recinto convenzionale ovviamente dal punto di vista ucraino l'interesse è che l'occidente intervenga attivamente il sogno sogno di zelensky e che la nato intervenga attivamente al fianco dell'ucraina in questo confronto con la russia ma l'occidente evidentemente ben consapevole di del rischio secondo ordine di una mossa del genere quindi si guarda bene dal farlo ma l'obiettivo evidentemente è quello ma anche al presidente zelensky noi non possiamo muovere un appunto in questo senso il presidente zelensky fa il suo mestiere che è quello di proteggere di guidare un paese che è stato attaccato perché questo è il discorso di fondo che noi non dobbiamo dimenticare questi sono stati attaccati certo allora grazie al generale cuzzelli vedo già pronti roberto arditti di formiche vedo borghi del partito democratico e ci collegheremo poi anche con adolfo urso che è il presidente del copa siri di fratelli d'italia e restate con noi una breve pausa pubblicitaria pubblicitaria